E ciao a tutti ragazzi per vedere questo nuovo video sono le oragli 07 e oggi vi farò vedere come avere Maxine gratis! Ragazzi dovete andare sulle impostazioni e mettere la lingua in francese Poi voi dovete mettere un brawler qualsiasi e mettete sopravvivenza solo Dovete arrivare ultimi o noni Potete arrivare o noni o ultimi Vuol dire io mo mi chillo Perché infatti mo sono in un account secondario perché non tengo Maxine Ok siamo morti siamo pure decimi Meglio pure così E ragazzi poi se voi andate qui nella vostra icona Mettete sempre questa La toccate per ben 10 volte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Poi Ma voi dite ma che dovete fare? Dovete cliccare su Byron Non so perché proprio Byron Lo cliccate due volte E poi tre volte leon 1, 2 e 3 Una volta ambra E due volte energetic E ragazzi Rimettete la lingua in italiano Ecco qua Poi scrivete nella chat del club Scrivete due slash Fre puntato max E due slash Così Poi lo scrivete In nel negozio Scrivete La stessa cosa Puntato max Un'altra volta Qua dirà che non è valido Ma comunque Vi darà Poi ragazzi Dovete Aprire una cassa Ma non la tengo Dovete aprire Pure una cassa brawl E trovate Maxine Raga Ragazzi Vi sto prendendo in giro Ragazzi Non esistono glitch Per trovare Nuovi brawler Poi se voi Non ve ne siete ancora accorti Voi avete già visto Che io tengo Già Maxine E poi La tenevo già qui Nell'icona Vuol dire ragazzi Questo video Vi volevo far vedere Che i glitch Non funzionano Che Tutti quei video Che dicono Come trovare I nuovi brawler E' tutto Fake Vuol dire ragazzi Questo è un video Per imparo Per imparare Che non esistono glitch Vedete Io la tengo Maxine Vedete Vedi Mo la tengo Maxine Vuol dire ragazzi Non esistono glitch E ciao